Esplorare l'architettura e la storia millenaria di Roma camminando nel foro come facevano gli antichi romani è ora possibile con il corso online gratuito sviluppato dall'università di Reading grazie alla computer grafica in 3D. Si potranno studiare e approfondire le tecniche di costruzione e il livello di sviluppo urbanistico dei romani, l'importanza degli acquedotti e di altre strutture cittadine. La durata del corso è di 5 settimane per 3 ore a settimana. Grazie a tutti i miei studiatori di Reading grazie a tutti i miei studiatori. E con il flore di questo modello, o conoscere il nostro modello, possiamo ottenere una sensazione di come la città all'inizio di più oltre anni fa. Grazie a tutti.